Siamo sempre a Rabat, un altro artista di questa città ha riprodotto i gruppi ligni che saranno portati in processione il venerdì santo. Guardate che fattura eccezionale. La città è una città, un'altra città, un'altra città è un'altra città. La città è una città, un'altra città è una città, un'altra città è un'altra città. La città è una città, un'altra città è una città. La città è una città, un'altra città è una città, un'altra città è una città. La città è una città, un'altra città è una città. La città è una città, un'altra città è una città. La città è una città, un'altra città è una città. La città è una città, un'altra città è una città. La città è una città è una città. La città è una città, un'altra città. La città è una 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 città.